Musica Ben trovati a Roma città aperta Anche oggi saremo insieme circa un'ora per parlare di tanti argomenti Per seguire la cronaca della giornata Ma anche per raccogliere, anzi soprattutto per raccogliere le vostre segnalazioni Raccontare le vostre storie Oggi una signora è venuta a trovarci proprio per raccontarci nel dettaglio la sua vicenda E per chiedere aiuto alle istituzioni pubbliche Il Comune di Roma, Roma Capitale, anzi prima di tutto Tra poco racconteremo la sua vicenda Andiamo alla storia che vi ho annunciato, avremmo raccontato oggi Do il benvenuto alla signora Isabella Marsigliotti Buonasera a lei Grazie per essere venuta a raccontarci la sua vicenda qua Abbiamo ricevuto la segnalazione della signora Isabella Marsigliotti Anche attraverso lo spazio di Roma 1 TV Ditola Roma 1 all'interno del nostro sito Dove raccogliamo le vostre segnalazioni sui fatti che riguardano la città Ma naturalmente seguiamo anche Le raccogliamo anche vicende più personali Difficoltà abitative Non solo come nella storia che ci racconta la signora Isabella Marsigliotti Possono finire nel nostro sito Allora la signora Isabella è una signora molto grintosa Si è trovata in difficoltà La sua vita la posta di fronte ad una situazione di grande difficoltà Ma la sta affrontando con tutta l'energia che le è possibile Allora le chiedo di raccontarci rapidamente Perché oggi è venuta a chiedere un aiuto E sta chiedendo un aiuto alle istituzioni per avere una casa Un alloggio adeguato Io premetto che... Insomma buonasera a tutti Intanto io sono invalida civile all'80% Sono non vedente parziale E dalla 2012 ho iniziato la separazione da mio marito Per problemi insomma che lui ha avuto anche inerente all'alcol Io ovviamente ho avuto diverse fasi In cui sono stata in Piemonte Diciamo ospitata da una mia amica Poi a Napoli Adesso sono rientrata da quattro mesi a Roma E sono stata ospite da mia zia Purtroppo sappiamo bene Le persone anziane tante volte non hanno pazienza E quindi adesso io mi ritrovo A rischiare a stare in strada Perché ovviamente non ho un alloggio fisso E ovviamente ho fatto Ho attivato già i servizi sociali del mio municipio Però quello che ovviamente è Che chiedo soprattutto al Comune di Roma Di fare in modo che io possa essere collocata Presso una struttura In cui mi permetta di non stare in mezzo alla strada Perché io non vedo Non vedo da un occhio Al sinistro a brevissimo tempo Devo subire un intervento chirurgico Per la sostituzione del cristallino Quindi quello che mi preme è non andare a finire in strada Io adesso sono ospite presso il centro di emergenza Freddo A Torpignattara Però ovviamente mi possono tenere per 15 giorni Dopo di ciò danno le dimissioni E non so dove andrò a finire In questa maniera Tra l'altro io ho solo una pensione di 279 euro Non lavoro, sono disoccupata Suo marito tarda, ricordiamo anche questo A pagarle gli alimenti Come dovrebbe Mi sta concedendo l'assegno di mantenimento Come previsto dal giudice E' stato fatto tutto l'iter necessario Attraverso i miei legali Per recuperare queste somme Ma sappiamo le burocrazie dei tribunali Come sono? Sono molto molto lente Quindi io ovviamente Non avendo sussistenza Non avendo proprio nessun tipo di sostegno E una pensione così di 279 euro Di pensione di invalidità civile Certamente non mi bastano per vivere E tantomeno andarmi a pagare un affitto Quindi io chiedo necessariamente Sia al mio municipio ex sesto Quindi adesso è quinto E all'assistente sociale che mi segue Ma anche al comune di Roma Di trovarmi una sistemazione Presso un istituto Presso una casa famiglia Dove io posso stare Perché ovviamente non posso girare Continuamente nei vari centri di emergenza Perché poi durante fine marzo chiudono Certo Questa è la mia situazione Questo poi perché Perché purtroppo Mi dispiace dirlo L'Italia e anche la Grecia Non attuano il reddito minimo garantito Per le persone proprio che sono disoccupate Over 40 Come lo sono io E ovviamente per tutti coloro Che si trovano in difficoltà Quindi non hanno un sostegno Né a livello di cassa integrazione Quindi ammortizzatori sociali Quindi è necessario Che lo Stato si attui Per far in modo che in Italia Ci sia il reddito minimo garantito Perché se io avessi avuto Questa fonte di sostegno Probabilmente adesso Non mi troverei a dover stare In un centro di freddo Io sono over 40 discriminata Respinta dalle aziende Come tanti over 40 Che ci sono in Italia Ma maggiormente sto subendo Discriminazione anche come disabile Perché ogni azienda Nonostante ho fatto tanti colloqui Mi respinge Certo Reddito minimo o lavoro Naturalmente Perché la signora Vorrebbe trovare un lavoro Adesso i tempi sono difficili Per chiunque E anche per chi non ha un problema Di disabilità Ma comunque Le cose si aggravano In questi casi Insomma Senza un'istituzione pubblica Che possa aiutare in questo O anche semplicemente A far rispettare le leggi Che ci sono Che imporrebbero alle aziende Anche una quota Di persone in difficoltà Comunque Diciamo che Adesso puntiamo Al primo risultato Cioè avere la certezza Che dopo aver lasciato C'è questo centro di prima accoglienza Per l'emergenza freddo La signora abbia Una sistemazione Tra l'altro Dovrà poi affrontare Un periodo di convalescenza Un intervento all'occhio Delicato Non potrà andare in giro In quel periodo Io non posso rischiare Di stare in mezzo a una strada Dovendo subire appunto Un intervento chirurgico Quindi Io Ovviamente sono entrata In questo centro Domenica scorsa Se tra due settimane Mi mandano via E sto Tra l'intervento E ovviamente Anche la fase di convalescenza Se sto in strada Io non vedo Perché Già vedo con un occhio solo Devo subire appunto Un intervento Deve vedo Se non c'ho assistenza Io come faccio Sto in mezzo alla strada E stono In ballia di ogni rischio Comunque non è giusto mai Rimanere in mezzo A Per nessuno Figuriamoci poi Per chi è disabile Come me Ma per qualsiasi disabile Anche per chi non è disabile Per qualsiasi persona Io dico Allora comunque Diciamo che L'amministrazione Sia appunto Il municipio Con l'assistente sociale Che anche l'amministrazione Di Roma Si sono già attivati Quindi diciamo Quando è stata allertata La sala operativa È intervenuta E lei ha trovato un posto Quindi diciamo Che il suo caso Ormai è all'attenzione Dell'amministrazione E non dovrebbero lasciarla Anzi insomma Abbiamo ricevuto Perché poi abbiamo avuto Un colloquio Diciamo via email Con l'assessorato Alle politiche sociali Insomma Perché volevamo appunto Farci rassicurare Che il suo caso Fosse all'attenzione E appunto Ci hanno detto Che appunto Insomma Sicuramente Continueranno a seguirla Insomma Non l'abbandoneranno Questo non ci dicono Non ci hanno detto Che da Tra una settimana O tra due settimane Dove lei Verrà ospitata E quindi Naturalmente Ci terrà poi Aggiornati Non dovesse arrivare Effettivamente Alla soluzione Allora in quel caso Ci inquietiamo davvero E torniamo all'attacco Però insomma La promessa La premessa È che adesso Comunque si troverà Si troverà Un luogo Per affrontare Questo periodo In attesa di Lavoro Il reddito Di L'assegno di mantenimento Del marito Insomma Le altre condizioni Che poi le permetteranno Di prendersi da sola Una stanza in affitto Esatto Esatto Più che altro Per rendermi Autonoma Che poi tra l'altro Il mantenimento E gli arretrati Verranno A fine causa Perché io sto facendo Proprio una giudiziaria E quindi È questo Poi quello che è Io ovviamente Spero che Mi possano anche Contattare Chi Ovviamente Si è messo in contatto Via e me Con lei In modo che Mi possano anche Aggiornare Proprio gli esponenti Del comune Dei politiche sociali Io ho attivato Tutti i miei canali Privati E più accessibili Per poter Avere proprio Un aiuto concreto Ovviamente Io mi auguro Che dopo Essere stata ospite Da lei Questa promessa Che lei Hanno fatto Sia mantenuta Perché C'è una ragione In più Sanno che Io la terrò Aggiornata In ogni modo Siamo attenti Comunque Diciamo Leggendo proprio L'email Alla lettera Ci scrivono Che Appunto Il percorso Tanto Specificavamo Che lei Per adesso Può stare là Per tre settimane In tutto Perché in queste Tre settimane Gli uffici del dipartimento Tramite la sala Operativa sociale Insieme All'assistente sociale Del territorio Avvierà un percorso Che mira Ad una soluzione Volta all'inclusione Soluzione Di cui la signora Sarà messa A conoscenza E che Terrà in considerazione Le sue esigenze E il suo percorso Di vita Parole Insomma Sembrano Rassicuranti Naturalmente Ci dirà La lettera giornata Esatto Come andrà a finire Senta Come si sta In questo centro Di accoglienza Di Torpina e Tara Beh Come sappiamo tutti Le realtà Dei centri di accoglienza Di emergenza Freddo Stando proprio A contatto diretto Proprio con le persone Che vivono anche In strada Diciamo Sono quelle che sono Cioè Non è che ovviamente Bisogna adattarsi In un certo qual modo Perché ci sono Tante Tante realtà Cioè Non solo italiane Ma anche straniere Che vivono lì Tra i quali Rumeni Moldavi E quant'altro Io È la prima volta In assoluto Che mi trovo Qui a Torpignattara Sono stata Nel 2011 Per 15 giorni In un altro centro Perché già C'è stato un precedente Che mi sono dovuto Allontanare Da mio marito Ed era quello Di via Marsala Però ci sono restata Solo 15 giorni Perché Poi con l'aiuto Di mio fratello Si è riusciti Diciamo A trovare Un colloquio Con mio marito E quindi Ero rientrato a casa Poi purtroppo Nel corso del tempo Mio marito Ha continuato Nonostante Fosse Stato consigliato Anche dall'ospedale De Tor Vergata Dove Ovviamente Era stato ricordato Di non bere Superalcolici Lui ha ripreso E quindi lì poi A causa del nipote Di mio marito È ricaduto Io mi sono trovata In una situazione Di non più sicurezza personale Non sto qui A raccontare Di retroscena Ovviamente E quindi Sono venuto Da andare via Per forza Una casa Che avete contestata Esatto Io adesso Ce l'ho contestata Quindi ne manca A dire Che posso fare Immediatamente Una domanda Di casa popolare Fino a che Non c'è la suddivisione Dell'appartamento Quindi la suddivisione Delle quote Devo attendere per forza Tutto lì E della causa Di separazione Va bene Allora io ringrazio Tanto la signora Grazie a lei Per esserci venuta A raccontare la sua storia Una tra appunto Le tante segnalazioni Che riceviamo Ma insomma La signora ci teneva A raccontarcela E noi appunto A farvela A farvela conoscere Se la continueremo A seguire Naturalmente Adesso Grazie a tutti